Von der Leyen non è un'innovatrice, nel senso che è molto legata al suo programma intermedio, socio intermedio, ha un ruolo di cucitrice. È vero che è cresciuta, come dicevo, quest'anno la lista delle richieste, in particolare sul verde, e sarà interessante capire la transizione, se la sblocca o se rimane molto cauta su questo. Mi aspetterei qualcosa di più sulle questioni della pace e della guerra, dei rapporti atlantici soprattutto, ma credo che forse queste cose qui non entreranno come programma dentro il suo discorso iniziale. Io avrò tutto sommato quello che volevo venendo qui, perché è la mia unica specialità, mi occuperò di politica estera, sono il delegato del PD nella Commissione esteri, che è una commissione che di solito non avendo molti soldi non è di fascia A, ma che invece è diventata molto rilevante in questi ultimi tempi. Dentro la commissione c'è anche il sottocomitato difesa, farò parte anche di questo comitato difesa e poi dovendo fare un lavoro di sostituto per altre commissioni farò il commercio estero, che è quello poi che stabilisce i rapporti più interessanti su Cina e Europa.